Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi ragazzi andremo a discutere un po' del canale Come era da un po' che non facevamo E vi andrò ad informare ad aggiornare su alcune cose che avverranno all'interno del canale stesso Innanzitutto questa è la camera che ho a Bologna Di là c'è lo studio di registrazione Fra tante virgolette che non vi faccio vedere per risparmiarvi le diottrie visive E vi invito fin da subito ad abituarvi a questa camera Dove vedete Abortozar del divino là in fondo I giochi Pokémon di fianco ai libri di filosofia Prima di iniziare con le news effettive L'ho già fatto nel concept analysis lo so Ma voglio e ci tenevo a ringraziarvi davvero tantissimo Per tutto il sostegno che state mostrando in questo periodo Siamo molti meno rispetto a prima in termini di visualizzazioni Però penso che in 4 anni e passa di attività su Youtube Io non abbia mai avuto una community così unita come ce l'ho adesso E ciò è soprattutto secondo me dovuto a voi E a come voi avete recepito positivamente il cambiamento che c'è stato sul canale Quindi davvero grazie perché sinceramente quando ho iniziato questo progetto Non l'ho iniziato con la certezza che venisse apprezzato così tanto Eppure seppur da una minima parte Questo progetto non è stato solo apprezzato È stato sostenuto e vi ho visti veramente entusiasti Per il cambio che c'è stato anche in termini qualitativi Proprio riguardo alla fanbase attivissima Volevo invece passare al prossimo argomento Che è Twitch Durante quel periodo che è andato tra fine agosto e inizio settembre In cui ho fatto praticamente solo live su Youtube Secondo me tra me e voi c'è stata un'interazione che mai si era vista prima sul canale E credo che questo abbia davvero contribuito a creare la community Che adesso mi ritrovo Che è una community unita Che non è mai stata anzi così tanto unita E qui ho commesso un errore in realtà Perché poi ho deciso di spostare tutte le stream su Twitch Cosa che poi non ho neanche fatto Perché in realtà con la connessione che mi trovo qua a Bologna Mi è molto difficile streamare Anzi praticamente impossibile E siccome le uniche possibilità che ho di streamare Sono quando sono su a Milano Sinceramente iniziare a fare stream su Twitch Una volta ogni due settimane Mi sembrava una cagata pazzesca E inoltre mi sono accorto che le live Potrebbero essere un ottimo mezzo Invece per creare interazione tra me e voi E di conseguenza per alimentare quel rapporto Che si era creato molto bene in quel periodo di live Di conseguenza contrariamente a quello che avevo detto nel video introduttivo della nuova era Vi annuncio ragazzi Che le live torneranno su YouTube Torneranno molto raramente E soprattutto torneranno su a Milano Dove ho la connessione per streamare In cui farò vari giochi Adesso non vi sto qui a spoilerare Ma immaginatevi e aspettatevi una live abbastanza presto insomma Fatta questa precisazione su Twitch Andiamo invece a prendere un altro argomento particolare del canale Signori Let's go Pikachu Che si fa di Let's go Pikachu Che cosa fa Creepy su Let's go Pikachu Perché dopo che è uscito Let's go Pikachu Creepy ha fatto un video su Capture Perché e quelli di Instagram in realtà già lo sanno Let's go Pikachu non l'ho ancora comprato Non l'ho ancora comprato perché in realtà da quello che sto vedendo Sono tentato di fare l'investimento Nel senso che vorrei saggiare con mano quello che è questo gioco qua Comunque la Switch l'avrei presa in ogni caso Tra pochi giorni sarà il mio compleanno Potrei ricevere dei soldi E se dovessero bastare Potrei effettivamente comprare il bundle di Switch Più Let's go più Pokéball Plus Ovviamente questo vuol dire che porterò Let's go Pikachu sul canale Assolutamente no Questo vuol dire che voglio giocare il gioco E poi siccome i miei fan che mi seguono su Instagram Sanno che da quando hanno annunciato Let's go Pikachu e Let's go Eevee Che ne parlo su Instagram E che spesso lo critico Volevo fare un bel video su YouTube Dove parlavo del gioco Esprimendo la mia opinione definitiva dopo averlo giocato Per chiudere baracche e buratini con la storia di Let's go Pikachu e Let's go Eevee E proiettarci subito nel 2019 Perché non credo che su Let's go Pikachu e Let's go Eevee farò più di tanto Visto che non è un gioco che rientra nelle mie preferenze a livello di gameplay ecco Però diciamo che il rapporto che avrò con Let's go Pikachu e Let's go Eevee Non sarà di gameplay ma piuttosto ne parlerò Comunque insomma lo acquisterò e vedremo un po' cosa fare insomma Anche perché non ho nemmeno l'elgato per registrare Quindi dovrei acquistare anche quella Quindi insomma non è la cosa più semplice del mondo nelle condizioni in cui sono Prima ho parlato di gameplay Oh i gameplay Quanto mi avete tartassato per i gameplay Creepy perché non porti più gameplay Cavolo ma vorrei che tu portassi i gameplay Guarda che se non fai gameplay non mi scrivo Questa cosa è successa veramente Molti di voi sotto il video introduttivo della nuova era Hanno espresso il loro dissenso riguardo al mio non portare più gameplay Ma io non intendevo dire quello Probabilmente sono stato frainteso Io non porterò più Nuzlocke Non porterò più guide Non porterò più gameplay Nel senso tradizionale Perché secondo me il gioco Pokémon Da quel punto di vista si è esaurito Ma non ho assolutamente detto di abbandonare completamente il gameplay Pokémon Ed è proprio qui che volevo darvi la news Ossia che sta per arrivare Se tutto va secondo i miei piani E ultimamente nulla va secondo i miei piani Un nuovo gameplay Per ora non vi anticipo niente Vi faccio sapere solo che sarà Sulla quarta generazione E non vi dico su quale gioco Non sarà una guida Non sarà una Nuzlocke Sarà una randomizer Circa c'è di mezzo al randomizer Però insomma Non come ve lo immaginereste No ci tenevo a precisare questa cosa qui Perché in tantissimi hanno espresso il loro dissenso Riguardo a un mio ipotetico Non portare più gameplay Ma io sinceramente Nel video della nuova era Mi sembrava di essere stato molto chiaro Sul fatto che in realtà Non è che non volessi più portare gameplay Semplicemente stavo cercando un modo Per fare un gameplay più originale Come in teoria dovrebbero fare tutti A mio avviso Solo che io ci ho messo un po' più di tempo E ci ho messo un po' più di tempo Vi avevo anche detto ai tempi Perché la mia idea originale Poi non mi era più piaciuta L'avevo cambiata Adesso ne ho trovata un'altra Che sto elaborando E se tutto va a secondo i miei piani Come ho detto prima La nuova serie potrebbe partire Già da settimana prossima Però questo ragazzi Non ve lo posso assicurare Chiusa questa ennesima parentesi del video Apriamo l'ultima E poi concludiamo con questo vlog Che è sempre inerente Al fattore gameplay Ed è una cosa Che io non ho specificato Nel video della nuova era Ma vi giuro Che nella mia testa Dovevo specificarla Mi sono completamente dimenticato Sto parlando della questione Soulink ragazzi Che molti di voi Mi hanno fatto effettivamente notare Il fatto che io Abbandoni completamente Il format Nazlock Vuol dire che abbandono la Soulink La risposta in realtà è no Nel senso che La Soulink Per quanto sia una Nazlock E per quanto vada contro Quello che ho detto precedentemente È più di un gameplay La ritengo più di un gameplay È una tradizione Tra me e Luke È una serie che facciamo In amicizia Che vogliamo fare Che vorremmo organizzare E a prescindere Dal mio portare O no le Nazlock La Soulink Nella mia testa Ci sarà sempre su questo canale Perché è una tradizione No? Corrisponde alle vacanze E quindi è triste Abbandonare una tradizione Di questo genere Quindi sì La Soulink Dovrebbe esserci in teoria Qual è il problema fondamentale? È che qui a Bologna Non ho la connessione Per fare una Soulink Perché durante la Soulink Io e Luke Comunichiamo tramite Discord Di conseguenza Serve una connessione In grado di reggere La connessione che ho qua Non mi permette nulla Di tutto già E già con le vecchie Soulink Era molto difficile L'unica possibilità Che abbiamo di registrare La Soulink È di registrare Per quanto mi riguarda Su a Milano Dove ho la fibra Il problema è che Su a Milano Ci sono una volta Ogni due settimane E quindi sarà difficile Organizzare la Soulink Tra me e Luke Ma ci vogliamo provare Ci vogliamo provare Perché comunque La Soulink è la Soulink Ovviamente sarà qualcosa Di meno stressante Nel senso che Caricheremo Meno episodi Alla settimana Però la Soulink Come schema Tornerà Poi vi farò sapere Qualcosa in più Però volevo specificare Anche questa cosa qua Perché molti si sono messi Le mani nei capelli Giustamente per la Soulink E io mi ero dimenticato Di specificare Sta cosa La Soulink Vogliamo farla È che non siamo sicuri Di riuscirci Ma ci proviamo Con tutte le nostre forze Ve lo possiamo assicurare Luke conferma nei commenti Che cazzo Comunque niente Per quest'oggi Credo di aver finito Con le news Ogni tanto farò Questi video In cui vi aggiornerò Su delle cose Perché la mia mente Viaggia molto veloce Quindi c'è sempre bisogno Di farvi Di mettervi al corrente Niente Fatemi sapere cosa ne pensate Di tutto ciò Con un bel commento Qui sotto Se volete lasciate un mi piace Passate dai social Ovviamente Per rimanere sempre aggiornati Visto che tante cose Che ho detto qui Comunque su Instagram Già le ho dette Anche se magari Non con questa completezza Vi invito ovviamente Se non l'avete ancora fatto A premere la campanella Non so se ho già detto Di iscrivervi Nel dubbio Iscrivetevi Detto ciò Io ho concluso Tutto ciò che dovevo dirvi Spero di non aver Dimenticato nulla Altrimenti a sto giro Non lo so Metto un commento In primo piano Lo blocchiamo Rimane lì E quindi ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao